ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore grazie prima di iniziare vi presento qualche colore dalla marca american creator che userò in questo video colori molto belli perfetti per questa stagione e coprono con un singolo strato sotto nella descrizione vi lascio il link del loro sito con la matita mi segno la posizione del disegno copro con colore alla parte segnata e non lo polimeriso in lampada spolvero sopra la polvere acrilica trasparente e lo polimeriso in lampada con il pennello degradé sfumo i colori musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Copro l'unghia con colori e non lo polimerizzo in lampada. Spolvero sopra la polvere acrilica trasparente dopo quale lo polimerizzo in lampada. Bagno il pennello in base gel che mi aiuta a sfumare i colori più facile. Musica Mischio la base gel con nero. Aggiungo qualche sfumatura più scura. Disegno qualche linea con giallo e con base gel sfumo un po'. Copro un pezzo di sole con bianco e lo sfumo con base gel. Aggiungo qualche sfumatura. Aggiungo qualche sfumatura. Aggiungo qualche sfumatura. Aggiungo qualche s Fachè welding gelatino. Aggiungo qualche sfumatura. Aggiungo qualche sfumatura. Aggiungo qualche sfumatura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.